Rudy ha trovato una famiglia. Anche grazie al nostro servizio questo pitbull di sette anni è stato adottato da una coppia di Montegrotto. La conferma arriva da Giovanni Tonellotto, responsabile del canile di Piazzola sul Brenta. Sono entusiasti. Sì, sì, ma loro pensano che erano venuti già sabato. Poi hanno detto, hanno provato con il cane, l'aria di scambamento, poi hanno detto ci pensiamo. Non è che sia stato domenica, mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda lo prendiamo e ieri sono venuti insomma a prenderlo. Rudy, che divideva il box con Shanti, quando la compagna è stata adottata da una famiglia di Valstagna è caduto in depressione. Mojo, isolato, poca voglia di mangiare e giocare. Ora sta bene, i nuovi proprietari dicono che si è già ambientato e la prima notte è passata tranquilla. Tutto è bene quel che finisce bene. Ricordiamo però che a Piazzola ci sono più di 200 cani in attesa di trovare una famiglia. Cercano solo affetto. Ognuno di quegli animali avrebbe una storia, tra virgolette, strappalacri.